Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui con il laboratorio dell'albasso Open Data in Action. Oggi parleremo del caso Spazio Dati, che è una delle prime, se non la prima azienda italiana ad aver utilizzato l'open data proprio nel business model. Quindi Michele Barbera ci parlerà della sua esperienza. Grazie e seguiteci. Buongiorno a tutti, io intanto vi ringrazio moltissimo per avermi invitato perché è veramente un piacere vedere che c'è questo fermento intorno all'albao Open Data. È particolarmente bello vedere che questo fermento c'è al sud. Abbiamo sempre detto nel movimento dell'open data che purtroppo c'era una sorta di Open Data Divide in Italia. Ed è molto, è veramente bello vedere che le cose si stanno muovendo adesso più al sud forse che al nord. In questi giorni c'è anche Open Data Matera e insomma è veramente una cosa fantastica. Allora, io, dato che abbiamo tanto tempo oggi insieme, la prendo un po' larga. e vi racconto un po' la storia di come siamo arrivati all'idea imprenditoriale e poi anche al modello di business che era un po', doveva essere un po' il cuore dell'intervento, prendendola veramente molto 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 alla lontana. Anche perché io sono partito, ho disegnato questo racconto pensando di non trovarmi davanti neanche un informatico. Invece siete tutti informatici, quindi magari vi annoierò a morte e se lo faccio ditemelo. Noi non siamo informatici. Magnifico. Allora parlo solo a voi. Gli informatici li ignoro. Volevo raccontarvi, volevo arrivare al web dei dati che è poi il cuore dell'intervento e anche dell'attività aziendale che io faccio passando da un po' una storia del web, soffermandomi sugli aspetti storici ma soprattutto filosofici. Cosa intendo per filosofici? Ci intendo architettonici, dei principi fondanti, i principi primi su cui l'architettura del web è costruita, che poi si ritrovano anche mutati ed evoluti in qualche modo nel web dei dati, che non è nient'altro che un'evoluzione tecnologica e sociale del web tradizionale. Quindi allora, partendo appunto da una prospettiva storica di come è nato internet, di come si è sviluppato il web, poi vorrei raccontarvi in seconda battuta, darvi una prospettiva sociale di quello che è il web dei dati, cioè quali sono gli aspetti socio-economici legati al web dei dati. Per arrivare a una prospettiva tecnologica, perché per dirla con McLuhan, the medium is the message, quindi bisogna capire come funziona l'infrastruttura tecnologica per comprendere a fondo gli aspetti sociali ed economici. E quindi pensavo di andare proprio un po' in profondità in come è fatto dal punto di vista tecnologico. Qui gli informatici tra di voi si suicideranno e mi scuseranno, e mi scuseranno anche per le semplificazioni. Vorrei anche, al punto seguente, farvi vedere degli esempi concreti di come questo fantomatico web dei dati di cui si parla da dieci anni in ricerca è stato utilizzato davvero nella realtà, in varie aree, in vari domini e in varie parti del mondo. Vedendo in questa accezione anche accennando ad alcuni possibili modelli di business. Poi io non sono un economista, quindi più che farvi vedere che cosa stanno facendo gli altri non potrò. E oggi pomeriggio mi piacerebbe, se vi va, fare una cosa pratica. E cioè provare a fare un esercizio insieme, semplice, per produrli questi link e data, per produrlo il web dei dati, metterci le mani. Cioè passare dagli open data cosiddetti a tre stelle, cioè i formati aperti, il CSV per esempio, a un primo web dei dati a quattro stelle, cioè rappresentato sotto forma di link e data, senza il link. Vorrei farvi vedere anche come si interroga questo web dei dati, cioè come si consumano questi dati che si trovano in giro per il web, che cosa ci si può fare dal punto di vista del consumatore. Prima abbiamo fatto il produttore, poi proviamo a fare il consumatore. E a quel punto saremo talmente bravi da poter ripartire da zero e provare a produrre degli open data da zero fino a 5 stelle, cioè trasformarli in link e data, portarli nel web dei dati. E alla fine vorrei chiudere con una parte provocatoria, che è una cosa che mi riesce benissimo di solito, dicendovi che il web semantico non esiste. È un po' esagerato, ma è ovviamente una provocazione. E quali sono i problemi di oggi e le sfide future che dobbiamo affrontare? Bene, se non vi siete già suicidati dalla noia, Io prima di saltare subito alla presentazione vi racconto un po' cosa faccio nella vita. Io ho iniziato a lavorare nel mondo dell'ICT intorno al 2001, momento di crisi della bolla di internet e ho pensato bene che era il momento giusto per fondare la mia prima azienda. E ho cominciato a lavorare a Pisa in una PMI che ho fondato insieme ad altri soci e che in quel periodo si occupava di sviluppo di siti web. All'epoca era un business credibile. Questa azienda si è evoluta e io mi sono sempre di più occupato della parte di ricerca e sviluppo. In questa parte di ricerca e sviluppo, siccome l'azienda andava nella direzione della gestione dei beni culturali sul web, io sono entrato in contatto con una comunità internazionale grazie alla ricerca della Commissione Europea che tentava di utilizzare questi nascenti modelli del web dei dati sulla valorizzazione dei beni culturali. Poi la cosa si è estesa, siamo passati dai beni culturali a tante altre cose e intanto la ricerca sul semantic web evolveva in quegli anni, è esplosa intorno al 2003 ma era veramente una cosa totalmente confinata nell'accademia, cioè c'era qualche sperimentazione ma non c'erano vere applicazioni pratiche di questa visione. Io ho continuato a lavorare lì dentro, ho conosciuto molte persone al di fuori della mia realtà fino a che nel 2012 queste cose su cui avevo lavorato per dieci anni erano, secondo me, secondo alcuni amici maturate a tal punto da essere finalmente, dopo dieci anni di ricerca, finalmente portabili e utilizzabili nella vita reale e quindi ci siamo detti proviamo a fare una scommessa e abbiamo voluto farla in Italia perché ci crediamo di creare una start-up esclusivamente dedicata ad utilizzare queste tecnologie. Dico tecnologie ma non è la parola corretta perché in realtà quello che è successo negli ultimi cinque o sei anni è stato sì un'evoluzione verticale delle tecnologie ma si è diffusa anche una cultura della condivisione, una cultura della condivisione che ha negli open data e in particolare nei government open data, che sono quelli di cui diciamo si parla di più oggi, solo una delle sue accezioni. In realtà la cultura della condivisione, come vedremo, viene da lontano ed è ramificata in tanti diversi aspetti. Il convergere di queste cose, di questo riacuirsi della cultura della condivisione e quindi la disponibilità dei dati e il maturare delle tecnologie hanno fatto sì che decidessimo che era il momento giusto e ci siamo lanciati in questa avventura. Spazio dati è una start up di piccola, di poche persone, che ha sede a Trento e a Pisa. Io sono pisano come avrete notato dal mio accento e che appunto, poi vi faccio anche vedere oggi pomeriggio nel dettaglio che cosa fa e come funziona, ma detta molto brevemente, raccoglie open data e non open data, li fonde insieme e li ridà in mano a degli sviluppatori che possono utilizzare la loro intelligenza e creatività sul lavorare per creare valore aggiunto su questi dati anziché perdere tempo ad andare a raccoglierli e a pulirli a destra e a sinistra. Detto molto, ciao, detto molto in insunto, questo è quello che fa Spazio Dati. Ma torniamo alla nostra prospettiva storica. Tanto per essere in tema, il mio mestiere non è quello di fare presentazioni e lezioni di sei ore, non l'ho mai fatto, quindi vi chiedo scusa se... E quindi mi sono fatto aiutare da dei colleghi che sono molto più bravi di me nel fare questo e ho fatto un mashup, ho fatto un mashup dei loro materiali, riorganizzandoli secondo il mio punto di vista. Quindi in particolare devo ringraziare due colleghi che sono Francesca Di Donato e Cristian Morbidoni, la gran parte dei materiali sono loro. Allora, cominciamo da lontano, cominciamo da internet. Che cos'è internet? Beh, internet è tante cose. È un ammasso di ferraglia, che è un insieme di macchine collegate tra loro, in qualche modo, in tanti modi diversi. È anche, ovviamente, sopra la ferraglia c'è del software, che permette a queste macchine di interagire l'una con l'altra, ma soprattutto l'aspetto più dirompente di internet rispetto alle reti, per così dire, tradizionali, è quello della comunità, la modalità di funzionamento che è il modo in cui coinvolge gli esseri umani più che le macchine. Vediamo un po' quali sono le... È abbastanza interessante, secondo me, andare a rivedere un pochino la storia di come è nata la rete internet e soprattutto di quali trasformazioni sociopolitiche ha comportato, perché poi queste trasformazioni si possono rivedere in tanti altri contesti, si possono rivedere nel web, si possono rivedere nel cosiddetto web 2.0, si possono rivedere nel web dei dati. Tutte le volte mutate, però è interessante che alla fine i principi fondanti probabilmente sono quasi gli stessi. quindi andiamo a vedere in modo strettamente interconnesso l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione sociale, cioè di come si evolve la rete dal punto di vista tecnologico e sociale che è sempre una cosa stretta e coesa e con interdipendenze. Le primi reti a pacchetti sono degli anni Sessanta, quindi stiamo parlando di ormai un po' di tempo fa. Il protoromo di internet viene da Arpanet, che è della seconda metà degli anni Sessanta, e anzi, insomma, che si sostanzia alla fine degli anni Sessanta. È interessante che già in quegli anni si comincia a parlare di topologia di rete. Questa è una cosa che ritroveremo, perché un'altra cosa che ci seguirà nel corso di questa storia sono le topologie, cioè vedremo come io per semplificare passiamo da una modalità di pensiero ad albero a una modalità di pensiero a rete, in diversi aspetti. Quindi è interessante già che già alla metà degli anni Sessanta si inizia a ragionare su una rete distribuita decentralizzata, in cui i nodi sono connessi gli uno agli altri, secondo una topologia quasi casuale, rispetto alle altre due reti che vedete qui dentro, che sono modelli esistenti di reti di calcolatori, e che però hanno una topologia, per così dire, più organizzata, e che però naturalmente comporta dei vantaggi, ma anche degli svantaggi importanti, sociali soprattutto. Ho fatto casino. Ok. L'altro, diciamo, l'altro leap, l'altro salto, è questa idea di spezzettare l'informazione, quindi i pacchetti, l'idea di prendere un messaggio e tagliarlo in tante parti e buttarlo su una rete spezzettato, anziché come un flusso unico dall'inizio alla fine, che è un altro aspetto tecnologico che ha dei risvolti su come poi la rete si evolve. Nella prima metà degli anni 70, Robert Kahn e Winton Cerf sviluppano il protocollo TCPIP. Il protocollo TCPIP è lo stack tecnologico di protocolli di comunicazione sul quale poi tutti gli strati applicativi più alti della rete sono costruiti. Il protocollo TCPIP, parlo di stack, perché è effettivamente una pila di cose ed è molto interessante più che i tecnicismi di come funziona il sistema di deleghe che costruisce. Un protocollo è sostanzialmente una serie di convenzioni che permettono a due entità di parlare. Quindi ci sono dei protocolli umani, naturalmente, quando incontriamo una persona che non conosciamo utilizziamo un protocollo per metterci in comunicazione con lui. Allo stesso modo le macchine utilizzano dei protocolli per parlare fra loro. La bellezza dello stack TCPIP è che è fatto a strati e ogni protocolli dello stato più basso si occupano di questioni più vicine all'hardware fisico, alla ferraglia, e mano a mano che si va sopra i protocolli diventano più astratti e quasi umani, permettete, e quindi comunicano con una semantica sempre più astratta. Questa cosa è molto simile a quello che succede, per esempio, dentro un aeroporto, dove c'è il check-in, dove ci sono la consegna bagagli, dove c'è un protocollo di gestione dei decolli sulla pista, dove c'è un protocollo di sicurezza, ci sono tutta una serie di protocolli che lavorano insieme, uno sopra l'altro, e che però sono autoconsistenti, cioè alla consegna bagagli, il protocollo che si occupa della consegna bagagli non sa come funziona il protocollo che si occupa del decollo. Quindi è un metodo affascinante per riuscire a coordinare sistemi complessi. Certo. Mi farei una domanda difficilessima. No, volevo... Non bisogna, no? Volevo approfondire questa questione che hai detto dalla ferraglia alla strazione, no? Se potevi, se riesci a specificare, magari, cioè, così come sulla slide, però forse ho bisogno di averlo un po' più chiaro spiegato, cioè cosa c'è sulla ferraglia e cosa c'è sulla strazione. Sì. Vediamo se c'è una slide. Non ce l'ho. Eccolo. Allora, questo qui è Wikipedia, preso da Wikipedia, tra l'altro sono vecchio questi slide, magari non è neanche aggiornatissimo. Questi sono diversi livelli della suite dello stack TCPIP. Quindi, c'è un livello fisico che è, per capirci, a livello dei cavi, proprio della fibra, eccetera, eccetera. Poi c'è un livello superiore che si occupa di, che utilizza dei protocolli tipo ATM, PPP, che permettono un certo tipo di collegamenti. Poi c'è uno strato ancora superiore, uno ancora superiore, che è quello dove c'è il TCP, e poi c'è quello delle applicazioni. Quello delle applicazioni è lo strato con cui noi interagiamo. Noi non vediamo, noi diciamo, io ho un background informatico, non ho alcuna idea di come funzioni il livello fisico. Veramente, credo che, tra voi ci sono tanti ingegneri, quindi lo sapete benissimo come funziona, io da sviluppatore posso non avere alcuna idea di come funziona quella cosa lì. Come io, da utente di un servizio aeroportuale, devo avere qualche idea di come funziona lo strato più alto, che è quello del check-in, ma non ho alcuna idea di come funziona il protocollo del decollo e di comunicazione tra il pilota e la torre di controllo. È trasparente per me. E questo è una, è una architettura sociale potente, perché permette lo stratificarsi delle cose senza, diciamo, doversi occupare ogni volta di tutto e quindi permette una delega delle conoscenze anche. Non è niente di nuovo, è una cosa che nei sistemi umani accade tutti i giorni. grazie per la domanda. E ci sono altri, una serie di, diciamo, di corollari potenti su cui l'architettura di internet è costruita al di là dello stack del protocollo e che poi anche questi ritroveremo. In particolare ci sono quattro regole base, quattro assiomi. Ciascuna rete distinta doveva starsene per i fatti suoi e non doveva aver bisogno di modifiche per connettersi alla rete internet. Questo perché? Perché internet nasce come rete di reti. Cioè le reti già esistono, c'è bisogno di un sistema per connettere tra loro reti che utilizzano protocolli diversi, hardware diverso, eccetera, eccetera. Quindi senza prima regola non dare noia a quello che già esiste. Continuare a farlo, non impogli niente. Seconda regola potentissima best effort. Cioè l'idea che si possono perdere delle informazioni, si può perdere delle informazioni. La rete deve essere resilient all'errore. Cioè l'errore è parte del sistema. Questa è una rivoluzione potentissima. Poi la rivediamo anche nel web. È uno sforzo concettuale importante, cioè progettare per l'errore. Oggi è la norma diciamo nei sistemi tecnologici. Ma poi ci torniamo anche nel pomeriggio, vediamo che in realtà non è così tanto ovvio pensare che l'errore è una parte del sistema. Ecco, l'altra regola iniziale è quello dell'idea di avere questi connettori tra diversi reti che sono dei cosiddetti black box, cioè che si mettono semplicemente in comunicazione semplicemente le reti ma l'intelligenza che serve a generare e a mantenere la comunicazione non sta in mezzo alla rete ma sta ai margini end to end cioè iniziare una comunicazione finire una comunicazione e soprattutto interpretare una comunicazione è una cosa che è demandata alle parti che comunicano. anche questa è abbastanza una rivoluzione perché altre topologie di rete altre architetture di rete hanno un'intelligenza nei nodi che smistano in mezzo anche questa ha un come vi immaginate una portata sociale non da poco e corollario non c'è quindi un controllo globale non c'è una coordinazione globale centralizzata poi ecco stiamo parlando di assiomi poi non sono tutte vere al 100% sono molto più sfumate queste cose però è interessante come sistema filosofico più che poi come è nella pratica nella quotidianità ci sono degli effetti naturalmente variabili vabbè negli anni negli anni 80 si si sviluppa si sviluppano altri 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 pezzi ecco vabbè magari andiamo un po' più veloci su queste cose no magari solo nel 92 nasce la internet society questo è un passaggio è un passaggio abbastanza importante perché non c'è coordinazione non c'è coordinamento centrale ma naturalmente un sistema che sta crescendo così rapidamente ha bisogno di degli organismi che permettono che permettono di coordinare in qualche modo l'evoluzione ma soprattutto che permettono di definire i protocolli cioè di definire come si fa a fare parte di questa rete che cosa quali standard bisogna bisogna adottare e di definire questi standard la governance di questi enti è naturalmente un aspetto politicamente molto sensibile c'è un dibattito enorme in questi in questi anni sulla governance di questi enti che sottendono all'evoluzione di internet perché sebbene non ce ne sia uno che controlla tutto naturalmente hanno una capacità di influenza va bene lasciamo ecco quindi di nuovo qui rivediamo i punti fondamentali quindi i concetti che ci stanno alla base sono quelli della stratificazione della scalabilità e della flessibilità e l'architettura è fatta su una rete decentrata su una intelligenza potenza di calcolo distribuita attraverso tutti i nodi della rete senza dei nodi dei nodi chiave e questa resistenza all'errore con una replicazione anche uno spreco di risorse cioè il modo in cui internet è disegnata non massimizza l'efficienza se dovessimo se dovessimo disegnare una rete utilizzando il minor numero possibile di risorse la minor quantità possibile di risorse probabilmente non disegneremo internet internet è una rete che ha delle ridondanze forti ha delle ridondanze forti in termini di servizi che vengono offerti alla rete per essere resistente e c'è un altro aspetto e vedete che si intreccia qui un po' quello che dicevo prima di questa di questa idea della condivisione del sapere un aspetto straordinario e determinante nella nascita della rete è l'accesso libero e aperto alla documentazione di base le specifiche con cui questi protocolli sono disegnati con cui i software di base sono disegnati nascono come libere e aperte in modo che tutta la comunità scientifica vi possa accedere senza filtri di sorta questo è un elemento determinante nella nascita e nell'evoluzione della rete cosa che non è tanto ovvia perché ci sono tanti altri settori in cui sembra ovvio a dirla è il modo in cui la scienza ci aspettiamo che funzioni c'è condivisione totale della conoscenza tra gli scienziati perché si sta sulle spalle dei giganti e quindi si costruisce su quello che hanno costruito i nostri colleghi ma invece non è tanto ovvia perché in tanti settori in tanti altri contesti anche la documentazione tecnica di base non è così accessibile e lo strumento è lo strumento straordinario con cui questa libertà si sostanzia sono le RFC request for comments cioè letteralmente richiesta di commenti il modo con cui vengono sviluppate nuove tecnologie nella rete è sono delle proposte chiamate RFC in cui gli scienziati i tecnici producono un documento seguendo delle regole che si chiama RFC e lo mettono a disposizione di tutti chiedendo nei commenti chiedendo di commentarlo chiedendo ai colleghi di migliorarlo è una modalità di di co-working antelitteram e diciamo abbastanza rivoluzionaria sebbene non nuova naturalmente questo crea un effetto rete potente perché crea un feedback crea un brainstorming crea una collaborazione tra gli scienziati tecnici di diversi luoghi del mondo tra l'altro e crea un feedback positivo quindi vengono fuori idee vengono fuori nuove proposte e ha un altro effetto ha l'effetto di cominciare a coordinare una rete umana dal basso quindi insegna a costruire il consenso insegna a costruire il consenso che è abitua a costruire il consenso che è una cosa necessaria naturalmente in una governance dal basso è complessa è uno degli aspetti più complessi della gestione di una di una governance dal basso la gestione del consenso qui con molta pragmaticità per arrivare a un consenso su queste request for comments si sperimentano anche modi di gestione del consenso e vabbè l'email l'email è il primo è il primo è la prima tecnologia dello strato applicativo che è allo stesso livello del web per capirci che esplode e che viene usato da tantissime persone allora interazioni felici ci torniamo dopo però ecco questa modalità di creare conoscenza di creare innovazione si ritrova con aspetti diversi nel movimento del free e dell'open source software un po' più avanti nel tempo si ritrova nella nella nascita del sistema operativo linux si ritrova nel web si ritrova nell'open access che è un movimento per l'accesso aperto all'informazione scientifica si ritrova in tutto quello che ruota intorno al copyleft a creative commons alle licenze aperte attaccando questo problema da diversi da diversi punti di vista e con variazioni significative però si vede una strada si vede una una traccia che tiene insieme tutte queste cose che non sempre sono collegate vabbè lo strato delle applicazioni lo strato delle applicazioni appunto dicevo è lo strato più alto dove girano delle cose come la posta elettronica ci sono dei protocolli per la posta elettronica e ce n'è uno che è quello di cui poi parleremo di più che è HTTP che è il protocollo del web quindi noi 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 utenti del web noi sviluppatori web conosciamo quasi solo quello ed è quello con cui abbiamo a che fare tutti i giorni siccome il web dei dati è per l'appunto uno strato del web HTTP è importante perché è uno dei cardini del web dei dati questo è uno screenshot di uno dei primi browser del web siamo negli anni 90 questo è Mosaic non è proprio il primissimo ce ne erano ce ne erano prima vedete che è su Next perché Tim Berners-Lee ha diciamo sviluppato insieme ai suoi colleghi le prime versioni del web su sistema operativo Next cosa abbastanza buffa e beh c'è Wikipedia apposta e devo buttare lì qualche perla per i nerd presenti in sala perché altrimenti mi tirano le piede un altro explorer è basato il primo explorer è stato da un'altra cosa fino alla 6 è ancora 4 ah fantastico quindi quindi XB aveva questo ci spieghiamo parecchie cose no ecco sì i browser niente il web si sviluppa negli anni 90 nei primi anni 90 c'è il suo boom sono bellissime le mailing list che trovate ancora online se andate a cercare sono straordinarie le discussioni tra i ricercatori che costruiscono il web perché parlano esattamente delle stesse cose che di cui si parla adesso nelle mailing list dell'open data del web of data eccetera eccetera è incredibile vi consiglio caldamente di andare a leggere allora il web se lo inventa questo signore che è Tim Berners-Lee tutti lo conoscono in realtà non se lo inventa da solo naturalmente se lo inventa in un contesto con tutta una serie di colleghi c'è una sua biografia molto bella che si chiama Wearing the Web e che è molto romanzata vi consiglio di leggerla perché è veramente piacevole tra l'altro è tradotta anche in italiano ora non ricordo i riferimenti ma ce li ho ve li do oggi pomeriggio questo signore lavorava al CERN di Ginevra quindi con dei fisici faceva in realtà l'assistente e che problema aveva? aveva il problema che c'erano tutti questi gruppi di lavoro al CERN un centro di ricerca enorme tanti gruppi di lavoro ognuno con il suo sistema di documentazione per interagire e scambiarsi documenti uno usava un sistema operativo quell'altro ne usava un altro uno usava un formato per l'encoding dei documenti quell'altro gruppo ne usava un altro ancora e quindi questo era un problema veramente serio per far interagire i gruppi quindi questo era un ostacolo incredibile alla disseminazione dentro una struttura di ricerca che è una struttura di ricerca in fisica in cui i gruppi non possono parlare fra loro è un disastro naturalmente quindi lui aveva questa idea di il web in realtà non nasce con un grande disegno nasce con l'idea di permettere a questi gruppi di ricerca di scambiarsi documenti senza impazzire sostanzialmente e diciamo dal punto di vista del background non inventa quasi niente perché gli ipertesti siamo nell'89 i primi ipertesti sono degli anni 50 60 se non mi sbaglio e quindi c'è un'idea ben nota quello che quello che la rivoluzione di 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 Tim Berners-Lee è quello di rendere questi sistemi universali universali vuol dire applicabili a tutti mentre prima gli ipertesti erano disegnati per funzionare su un particolare sistema il l'idea di Tim Berners-Lee è proprio quella di avere poche semplici regole comuni per far sì che sotto reti già esistenti differenti con le loro proprie regole potessero fare il minimo sforzo per adattarsi a queste a queste nuove poche semplici regole comuni e quindi comunicare tra loro è una roba di una banalità sconvolgente però è una cosa brillante in realtà togliere anziché anziché creare un sistema che dall'alto sarebbe quello che diciamo a me da da informatico mi viene in mente sì creiamo un sistema nuovo ci attacchiamo a tutti i protocolli esistenti sviluppiamo dei driver che parlano con tutti i protocolli esistenti è quello che facciamo tutti i giorni lo facciamo sempre lo facciamo lui diciamo la la rifiuta questa idea quindi fa una cosa rivoluzionaria dice no no signori non sviluppiamo niente togliamo tutti i pezzi lo rendiamo super semplice e sarete voi gestori delle dei gruppi di ricerca ad adattarvi a queste regole comuni semplici anziché il contrario e ok c'è un c'è una una cosa un diciamo un si cita sempre quando si parla del web e dell'ipertesto e non a caso questo questo articolo di Vannevar Bush in cui lui affronta il tema di come la tecnologia può contribuire alla crescita dell'umanità e alla ed è molto bellino leggerelo perché dice come può il bagaglio della conoscenza umana accumulatasi fino ad oggi e avvenire aiutare l'uomo a vivere in pace cioè quindi lui invece la prende un po' più sul filosofico rispetto a quanto poi fa Bernard Slee e e quindi non è non è non è una non è una un saggio puramente tecnico ma è parte da dei principi filosofici e su una riflessione politica di come di come si genera il sapere e di come il sapere si comunica e è il il cuore del ragionamento di Van Lea Barbusch è il l'osservazione che la conoscenza umana è un insieme collegato in un tutto e che diciamo ha valore perché è collegata naturalmente questo è il cardine anche dell'ipertesto questo è il cardine anche del web questo è il cardine anche del web dei dati l'idea che il contesto vale di più della somma delle parti e l'osservazione che l'accumularsi di questa informazione di questa di questa conoscenza è un processo è un processo cumulativo e si evolve e si evolve in maniera disordinata e qui poi vediamo vi voglio far vedere un un filmato più tardi che racconta questa cosa però in modo molto più chiaro di come di come posso farlo io di come le reti si si evolvono va bene ma ecco vai non ho capito bene in che senso il contesto vale di più della somma delle parti lo vediamo ora nel memex però diciamo il tema l'idea di fondo è che il sapere l'informazione diventa conoscenza quando è collegata quando riesci a calarla in un contesto una informazione che tu hai disconnessa dal contesto è difficilmente trasformabile in conoscenza questa è una roba ovvia e naturale nel senso che l'idea del link e quindi questi collegamenti della conoscenza non è un'invenzione dell'ipertesto quando tu vai in una biblioteca quando tu studi un argomento prendi un libro lo leggi e leggi le reference le citazioni questa cosa ti fa saltare un altro libro costruisci delle piste e uso la parola piste perché Vannevar Bush parla proprio degli scienziati come battitori di piste cioè lui dice gli scienziati si trasformeranno con questa sua macchina che è ops ho fatto un po' casino vediamo se riesco lui si immagina una macchina fatta così che è fatta tutta di leve ingranaggi che che tengono insieme i documenti e che e che permettono ai ricercatori di costruire delle piste di collegamenti tra questi documenti cartacei cartacei e muovendo delle leve e schiacciando dei bottoni si potevano seguire queste piste e questa qui è un pezzettino dell'articolo tradotto in italiano il proprietario del Memex per esempio è interessato alle origini e alla proprietà dell'arco in particolare sta ricercando il motivo nelle battaglie delle crociate per cui l'arco corto turco fosse superiore all'arco lungo inglese ha a disposizione dozzine di libri e articoli pertinenti nel suo Memex questa macchina da prima sfoglia un'enciclopedia trova un articolo interessante ma non approfondito lo lascia proiettato poi un resoconto storico trova un altro argomento pertinente e lo congiunge al precedente procede in questo modo costruendo un percorso di molti elementi di quando in quando inserisce un proprio commento sia congiungendolo alla pista principale sia connettendolo come pista laterale a un elemento particolare quando diventa evidente che le proprietà elastiche dei materiali disponibili erano fondamentali per il rendimento dell'arco egli devia su una pista laterale che lo porta attraverso libri di testo sull'elasticità e tavoli di costanti fisiche inserisce una pagina di analisi scritta di suo pugno quindi attenzione a questo punto non è solo lettura è anche scrittura in questo modo egli costruisce una pista della sua ricerca attraverso il labirinto del materiale che ha a disposizione è straordinario secondo me questa cosa è il web anzi non ci siamo ancora tanto al Memex ma manca ancora qualche pezzo però 1945 e vi leggo un altro pezzettino di una cosa un po' posteriore del 99 di Tim Berners-Lee l'architettura del nuovo web l'invenzione del www ha comportato la crescente comprensione da parte mia del potere insito nel disporre le idee in maniera libera reticolare una consapevolezza che ho appunto acquisito tramite questo genere di procedura un computer conserva le informazioni secondo gerarchie e matrici rigide mentre la mente umana possiede la dote speciale di saper collegare fra loro frammenti casuali di dati quando sento l'odore di caffè mi rivedo in una cameretta sopra una tavola calda a Oxford il mio cervello crea un collegamento e mi riporta là all'istante è di nuovo la stessa cosa no? è il link è l'idea di link rivista da da Tim Berners-Lee che poi la mette dentro dentro l'ipertesto questa è una vignetta tedesca carina che ci sono questi due che dicono Sie denkt Rizomatisch cioè pensa a Grafo lei sta pensando a Grafo quindi con dei link e forse no andiamo avanti un altro pochino e poi magari possiamo fare una pausa così non non buttiamo insieme troppe cose quindi ricapitolando l'elemento l'elemento più importante del del web l'elemento dirompente del web rispetto agli ipertesti è l'idea dell'universalità l'universalità significa che è totalmente indipendente dall'hardware e dal software significa che adotta uno standard per la codifica dei caratteri che permettono la presenza sul web alle diverse lingue perché c'è anche naturalmente l'aspetto delle lingue cosa che al web al CERN è evidente perché ci sono scienziati di tutto il mondo e è pensato dall'inizio e crea e diffonde degli standard per l'accessibilità pensando e lavorando già dalle dalle sue fondamenta anche con pensando a far funzionare anche delle macchine obsolete per esempio cosa che nel laboratorio in cui lavora è abbastanza comune cioè c'è chi ha macchine avanzate potenti c'è chi ha macchine obsolete c'è chi ha problemi di visione di movimento eccetera eccetera e quindi l'idea dell'universalità è l'idea di saper rispondere a tutte queste esigenze io mi 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 fermerei qui se siete d'accordo facciamo una pausetta e poi andiamo avanti grazie a tutti